...situazione. Da oggi a Sacile la musica nascerà dal sole, inaugurato alla Fazioli, la Ferrari dei pianoforti, il nuovo impianto fotovoltaico che coprirà circa un terzo del fabbisogno energetico dell'azienda. Ma per i particolari ci colleghiamo con Pordenone, dove c'è Tino Zava. Da oggi quindi i celebri pianoforti a coda e da concerto, che 30 anni fa neppure esistevano, sono ora ritenuti i migliori al mondo, secondo l'Economist, saranno costruiti con energia pulita. Progettato e realizzato dalla Making Energy, il nuovo impianto fotovoltaico installato sulle coperture del complesso di Ronche interessa una superficie di 5.000 m2 in grado di assicurare una potenza di picco di 181 kW. Ognuno dei 780 moduli è costituito da 60 celle in silicio policristallino. Verranno ogni anno abbattute 100 tonnellate di anidride carbonica. Da oggi, presenti alla cerimonia il presidente della regione Tondo, con l'assessore Deanna, Fazioli può frezzarsi quindi del titolo di autoproduttore. Fondata nel 1981 dall'ingegner Paolo Fazioli, l'azienda santillese sforna in media 120 pianoforti, l'anno con uno staff specializzato di una quarantina di addetti. Nel 2001 i nuovi stabilimenti, tre anni dopo, è la volta della Concert Hall ad acustica variabile che si presta per prove di strumenti, registrazioni e ovviamente concerti. Notizia di questi giorni, rompendo una tradizione che andava avanti da ben 80 anni e che la legava alla Steinway, anche la celebre Giuliar School di New York ha acquistato un gran coda Fazioli. Trieste.